Ciao ragazzi, benvenuti in un altro video dove andremo a vedere la cosa principale per il nostro Omassistant ovvero come installare ed utilizzare il nostro Google Backup questa è una delle integrazioni più importanti che possiamo avere sul nostro Omassistant perché ci permette di andare a fare dei backup automatici e riutilizzarli in caso in cui abbiamo dei problemi con il nostro Omassistant clicchiamo su Impostazioni, Componenti aggiuntivi e poi su Raccolta di componenti aggiuntivi a questo punto ci sono in alto a destra quei tre puntini, clicchiamo su Repository ed una volta cliccato su Repository e in descrizione troverete il link da andare ad aggiungere all'interno di questa interfaccia una volta che avete incollato il link clicchiamo su Aggiungi a questo punto Omassistant Google Drive Backup è stato aggiunto e possiamo cliccare su Chiudi come vedete scendendo all'interno della pagina se non lo trovate dobbiamo andare ad aggiornare la pagina e scendendo andando in fondo troveremo il nostro Omassistant Google Drive Backup clicchiamo sul link e cliccheremo successivamente su Installa diamo qualche secondo che Omassistant installi il nostro componente aggiuntivo una volta che l'installazione sarà terminata ovviamente l'interfaccia cambierà e andremo a spuntare obbligatoriamente la voce Watchdog che ci permette di riavviare il componente automaticamente in caso di problemi e se vi interessa potete anche fleggare l'opzione Mostra nella barra laterale in modo da averlo sempre sulla barra laterale clicchiamo su Avvia ed apriamo l'interfaccia web una volta aperta l'interfaccia web andremo ad autenticare il nostro Google Backup con il nostro account di riferimento per il backup in questo caso io ho utilizzato il mio account principale di posta elettronica ma voi potete anche utilizzare un account specifico per il vostro Omassistant ovviamente seguite la verifica dei passaggi per il vostro account Google ed una volta terminati possiamo cliccare su Continua ed copiare questa stringa di codice che poi ci servirà all'interno di Omassistant quindi senza che selezionate voi in maniera automatica potete cliccare su Copy e andarla a incollare all'interno di Omassistant una volta fatto questo cliccate su Salva e come potete vedere l'interfaccia backup di Google all'interno del nostro Omassistant è pronta i primi due settaggi che vediamo fanno riferimento su dove fare i backup e quanti backup Omassistant deve fare prima di andare ad eliminare quello più vecchio in pratica quello sulla sinistra quindi backup in Omassistant è impostato su 4 vuol dire che Omassistant farà 4 backup sul nostro hard disk del computer e nel momento in cui eseguirà il quinto automaticamente andrà ad eliminare il primo backup fatto in modo da avere sempre 4 backup sul nostro hard disk stessa cosa per quanto riguarda backup in Google Drive dove questa volta invece di andare a salvare i backup sull'hard disk all'interno del nostro mini PC andrà a salvare i backup all'interno del nostro Google Drive quindi Omassistant ci dà la possibilità di salvare contemporaneamente dei backup sia sull'hard disk del nostro mini PC e sia all'interno di Google Drive in modo da avere delle doppie copie del nostro sistema Omassistant andando verso il basso abbiamo la possibilità di impostare ogni quanti giorni il nostro Omassistant deve creare dei backup quindi io imposterò una volta al giorno e come orario gli darò le 23 quindi sto dicendo al Google Drive Backup di fare una volta al giorno alle ore 23 di sera il backup del mio Omassistant a questo punto clicchiamo su Salva in modo da andare ad impostare il nostro Google Drive Backup di Omassistant possiamo anche in alternativa andare a fare delle copie di backup manuali cliccando semplicemente su Backup Now in modo da andare a creare il nostro primo backup come potete vedere il nostro primo backup è stato fatto ha una dimensione molto piccola perché al momento non abbiamo nulla all'interno di Omassistant ma man mano che andremo a riempire il nostro Omassistant i file saranno ovviamente più grandi bene ragazzi se avete domande potete cliccare nei commenti e fare la vostra domanda mi raccomando aggiungete un like e iscrivetevi al canale ciao ragazzi ciao ciao